La mia vita c'è e ci sarà tanta bellezza Brad Pitt svela, Nella mia vita c'è e ci sarà tanta bellezza Brad Pitt agli occhi del pubblico sembra un uomo forte, coraggioso, che non molla mai Eppure di difficoltà ne ha incontrate parecchie, il sex symbol di Hollywood si è ritrovato nel giro di alcuni mesi ad affrontare un difficile divorzio e a dover superare i suoi problemi personali Da attore sexy a persona con problemi con l'alcol, così l'ha etichettato la stampa internazionale quando sono emerse le prime indiscrezioni sul divorzio da Angelina Jolie In effetti Brad Pitt un problema con l'alcol lo aveva e lo ha dichiarato lui in prima persona, ma ora sembra esserne uscito, così come ha superato la rottura della sua famiglia ed è pronto a rimettersi in pista più forte di prima Un uomo che non molla mai Agli occhi di molti sembravano la coppia perfetta, giovani, belli, innamorati e di successo Lo sono stati per diversi anni fino a quando qualcosa tra di loro si è rotto e non è più stato possibile rimettere insieme i pezzi Così sono finiti i viaggi di famiglia, le estati nel loro castello in Francia e tutto il gossip che la coppia Jolie-Pitt ha alimentato per diversi anni Inutile dire che entrambi gli attori ne sono usciti a pezzi, cercando comunque la forza nei loro sei figli che sono più che mai legati alla loro famiglia Brad Pitt ha trascorso momenti davvero difficili, tanto che ne ha subito le conseguenze fisicamente e mentalmente Lattore però ha deciso di non lasciarsi andare del tutto e di recuperare ciò che gli rimaneva della sua vita passata, rimettendo insieme i pezzi e cercando di tenersi ben saldo a quellidea di famiglia che nessuno dei due vuole fa svanire In ogni caso lui è sempre stato libero di vedere i suoi figli e di rapportarsi a loro come un normale padre e questo gli ha dato molta forza Dopo aver trascorso anche diverso tempo in terapia per risolvere del tutto i suoi problemi con l'alcol, la star si è rimessa in forma ed è convinto più che mai che nella sua vita c'è e ci sarà sempre tanta bellezza Brad Pitt e i suoi mille volti Non solo sul grande schermo, ma anche nella vita privata, Brad Pitt si è fatto conoscere dal pubblico come un uomo dai mille volti Sono numerosi i personaggi che ha interpretato e analogamente, sono altrettanto numerose le situazioni in cui l'abbiamo visto destreggiarsi nella vita reale Partendo dalla relazione storica con Jennifer Aniston in cui era passato agli occhi di tutto il mondo come un traditore, si è arrivati a quella con Angelina Jolie, in cui invece lui ha affermato di aver abbandonato molto di sé per farla funzionare Purtroppo questo non sembra averlo salvato perché la sua ex moglie ha scelto comunque di chiudere il loro rapporto, accusando in parte i problemi caratteriali del compagno Brad Pitt oggi ha oltre 50 anni, ma dopo tutto quello che ha passato non sembra volersi fermare davanti a nulla, al contrario ha rimesso insieme i pezzi ed è tornato più forte di prima Purtroppo questo non sembra volersi fermare davanti a nulla, al contrario ha rimesso insieme i pezzi ed è tornato più forte di prima